Ciao, sono Yasmin. Ho saputo che l'azienda torinese per i trasporti ha ricevuto un finanziamento dall'Unione Europea di 13 milioni per sostituire gli autobus ecologicamente obsoleti. Questo significa che ci saranno più autobus elettrici in città e che inquineranno meno. Il prossimo maggio si vota per le elezioni al Parlamento Europeo. Io stavolta voto per una città più punita.